Alle porte un altro venerdì di scioperi del trasporto pubblico, scontro fra auto a Sant'Angelo Invado, interviene l'eleambulanza, elezioni Crosetto a Pesaro con Fratelli d'Italia, Vallefoglia, patto di legalità rinnovato con la Guardia di Finanza, applausi alla prima del docufilm sulla famiglia Sarano. Buona serata a tutti voi pubblico, di Rossini TV, ben ritrovati ad un nuovo spazio informativo del nostro telegiornale Rossini News, edizione di giovedì 15 settembre. E apriamo questo notiziario annunciandovi lo sciopero nazionale che domani caratterizzerà per otto ore il trasporto pubblico locale. Autobus fermi a Pesaro con disagi per le scuole ad appena il terzo giorno dell'anno didattico. Il servizio. Una settimana dopo lo sciopero che ha coinvolto macchinisti e capotreno italiani e anche nel pesarese ha creato cancellazioni di treni e disagi, arriva un altro venerdì problematico nel settore dei trasporti con un altro sciopero convocato dalle principali sigle sindacali italiane del settore. La motivazione dello sciopero è molto specifica ed è la stessa di una settimana fa. Gli operatori del settore protestano per i continui episodi di aggressione al personale dei trasporti che da troppo tempo si verificano con cadenza ormai regolare. Così come da troppo tempo mancano garanzie all'incolumità degli stessi a fronte di provvedimenti governativi reputati insufficienti. Anche nel pesarese dunque ci sarà domani uno sciopero di otto ore che la stessa Adria busconferma dalle 9.30 alle 17.30. La portata di adesione allo sciopero è naturalmente suscettibile dalle adesioni dei singoli operatori. È difficilissimo prevedere l'adesione perché poi dipende anche dalle condizioni e della sensibilità di ognuno. Certo questa volta la raccomandazione è una raccomandazione anche abbastanza importante per i lavoratori perché comunque è una protesta per far alzare l'attenzione su tutto quello che succede durante l'orario di lavoro dei conducenti. I fenomeni di aggressioni o comunque la poca sicurezza a bordo derivante dal comportamento di alcuni passeggeri. Una sicurezza di lavoratori per la quale Adria bus sta cercando di apparecchiare tutto il supporto possibile. In alcune giornate particolari abbiamo sempre previsto durante l'estate presenza di vigilanza a bordo proprio per dare non solo un aiuto concreto allo svolgimento della società del servizio ma anche un supporto direi quasi psicologico. L'azienda è vicina quindi ci sono le paretine divisorie che dividono dalla parte dei passeggeri e la presenza di alcuni vigilanti quindi della vigilanza a bordo ha reso possibile dei viaggi e dei servizi più di tre qualità in alcune località. Lo sciopero si inserisce anche con un tempismo beffardo. Ieri c'è stato infatti il primo giorno di scuola e domani al terzo giorno il trasporto scolastico sarà già menomato. Garantito nella partenza, molto meno nel rientro. Non sopra gli 8 ore, dal 9 e mezzo al 17.30 e quindi prenderebbe in pieno la fascia del rientro dalle scuole quindi sicuramente anche gli studenti verranno, nelle fasce orarie gli studenti verranno comunque, potrebbero essere compromesse. Incidente stradale attorno alle 10 di questa mattina a Sant'Angelo in Vado dove due automobili per cause ancora da accertare si sono scontrate violentemente sulla strada provinciale 18. Vista la gravità dello scontro sono stati subito allertati gli uomini del 118 e i vigili del fuoco che si sono dovuti impegnare nell'estrarre dalle lamiere dell'auto uno dei due feriti rimasto imprigionato. Per il ferito in questione è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza per il trasferimento in codice rosso all'ospedale Anconetano di Torrette. Meno gravi invece le ferite del conducente dell'altra auto trasferito all'ospedale di Urbino. E vi ricordiamo che da oggi nei punti vaccinali della Regione Marche sono partite le prime somministrazioni di vaccini anti-Covid aggiornati alla variante Omicron. Si tratta di vaccini consentiti solo come dose di richiamo nei soggetti di età superiore ai 12 anni che abbiano completato almeno un ciclo primario di vaccinazione di tre dosi. Ed ora apriamo una ricca pagina di politica con vista sulle elezioni a cominciare dalla visita oggi a Pesaro di Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia, che ha incontrato i coordinamenti territoriali proprio del partito di Giorgia Meloni e diversi imprenditori pesaresi. Prima a Pesaro, poi a Fermo. Giornata nelle Marche per Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, è possibile figura centrale in un prossimo ipotetico governo di centrodestra. Ospite dei coordinamenti marchigiani di Fratelli d'Italia, Crosetto oggi è stato a pranzo all'hotel Excelsior di Pesaro in un incontro conviviale con alcune delle principali personalità dell'imprenditoria e dell'industria del territorio. Imprenditoria fortemente preoccupata da un caro energia che invoca risposte concrete da questa campagna elettorale. Bisogna agire subito, non si può pensare che possa agire un nuovo governo che arriverà tra due mesi perché il problema è adesso, le aziende stanno chiudendo adesso, la cassa integrazione sta partendo adesso. C'è solo un modo da fare, seguire quello che hanno fatto Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, un intervento statale che blocchi il prezzo dell'energia a un limite massimo e che scarichi sulla spesa pubblica e il resto fin quando il gas non tornerà a prezzi accettabili e che consentano ai nostri imprenditori, alle nostre imprese, alle famiglie di sopravvivere. Basterebbe usare i fondi europei non spesi che sono 44 miliardi che dovremmo restituire tra un po' l'Europa. Dall'agenda elettorale al risponso delle urne, Crosetto ha ostentato fiducia su quello che sarà il verdetto espresso dall'elettorato. La Fratelli d'Italia punta a essere determinante nel futuro governo per fare cose che servano a questo paese. Poi il 28, il 30, il 35, l'importante è che esista una maggioranza politica coesa che possa in qualche modo affrontare i problemi. Al fianco di Crosetto i principali esponenti della provincia di Fratelli d'Italia e i candidati alle prossime elezioni Antonio Baldelli e la coordinatrice regionale Elena Leonardi. I riscontri sono sicuramente positivi, stiamo trovando sia noi candidati che ci muoviamo sia il popolo di Fratelli d'Italia e del centro-destra ma anche nelle piazze che vengono riempite giorno dopo giorno dal nostro leader Giorgia Meloni sentiamo un contatto, una vicinanza e una fiducia che ci sta dando la cittadinanza italiana. Il problema sicuramente sarà successivo nel senso di riuscire a dare quelle risposte e essere capaci della fiducia che sentiamo ci stanno dando. Per questo figure importanti che parlano e conoscono il mondo imprenditoriale che sanno affrontare e lo hanno dimostrato con le proprie capacità e la concretezza come Guido Crosetto sono figure importanti da avere al nostro fianco per dare quelle risposte che i cittadini, le imprese, la nostra ossatura della economia reale sta chiedendo e che purtroppo fino ad oggi ha avuto difficoltà a trovare. Ancora politica. L'assessore regionale Stefano Aguzzi ha deciso di candidarsi alle elezioni con Forza Italia e in questa intervista ci illustra motivazioni e cardini della candidatura. Stefano Aguzzi da assessore regionale ha candidato a dare manforte alla squadra di Forza Italia in questa chiamata alle urne del 25 settembre che vede Forza Italia la vede candidata nel listino proporzionale alla Camera al secondo posto dietro alla capolista Valentina Vezzali squadra completata anche da Jessica Marcozzi per il Senato e sempre al proporzionale e da Francesco Battistoni per l'uninominale a ferma Escoli Piceno tanti nomi uniti da questo slogan costruttori di futuro che mi sembra pertinente al presente incerto soprattutto anche a livello di governi instabili. Guardate, uno dei problemi più grandi che ha vissuto l'Italia negli ultimi anni ma anche diversi anni addietro è quella della instabilità continua nei nostri governi governi che durano un anno, un anno e mezzo, otto mesi non riescono non solo ad affrontare e risolvere i problemi ma detto brutalmente non riescono neanche a essere giudicati dai cittadini perché si ha difficoltà a giudicare l'operato di un governo se non è durato almeno una legislatura. Conseguentemente questa volta credo che ci siano tutte le condizioni perché da queste elezioni emerga una maggioranza chiara, netta una maggioranza di cui farà parte, fa parte anche Forza Italia e io credo che in un governo futuro dove tutto il centrodestro unito ha dato in questi mesi e in queste settimane un'idea proprio di grande serietà presentandosi unito, senza litigi, senza contrapposizioni con un programma comune ecco, questo sarà un governo quindi autorevole e serio ripeto, la presenza all'interno di questo governo di Forza Italia sarà fondamentale perché comunque sia Forza Italia è da sempre una forza moderata europeista, che dialoga, che non ama troppo urlare nelle piazze ma ama affrontare i problemi quindi all'interno del nuovo governo al di là del consenso che avranno i singoli partiti Forza Italia avrà un posto importante avrà i suoi ministri all'interno del nuovo governo io penso ad esempio a un Tajani che nei rapporti con l'Europa sarà preziosissimo in futuro per il nostro paese questo è il senso di questa mia candidatura quindi dare forza all'area moderata del futuro governo della futura maggioranza e quindi quando parlo di area moderata parlo di Forza Italia che è da sempre il partito moderato di questa nazione, di questo paese Tra il suo assessorato e la sua candidatura possiamo anche mettere come filo conduttore alcune deleghe come quella al lavoro e all'ambiente che credo siano centrali anche poi in quella che sarà un'azione di governo i temi che il futuro governo dovrà affrontare sono temi ai noi difficilissimi molto attuali uno è quello della crisi economica dovuto anche all'aumento dei prezzi e dell'energia alla mancanza di materie prime che quindi ci sarà un serio raffronto e confronto sui temi del lavoro, della formazione delle potenziali e eventuali crisi aziendali quando se si porranno e questo è proprio quello che io sto facendo in Regione Marche da due anni a questa parte ho affrontato crisi importanti come quella della Caterpilla degli Esi o di Elica di Fabriano l'abbiamo superata, affrontata in maniera positiva garantendo l'occupazione, garantendo le attività ecco, questo dovrà essere un'esperienza che se dovesse vedermi ricoprire un ruolo a livello nazionale può arricchire anche quel bagaglio di esigenze che ci saranno in prospettiva e ha ugualmente per quel che va di temi ambientali qui si parla tanto di ambiente di tutela ambientale di nuove attività legate ad energie rinnovabili che non inquinino poi ai noi purtroppo vediamo che a causa della guerra in Ucraina a causa della situazione più a livello mondiale generale stiamo quasi per essere costretti a riattivare le centrali a carbone quindi siamo proprio una contraddizione detto proprio brutale io credo che occorre superare alcuni stereotipi alcune paure e andare verso fonti di energia che siano poco inquinanti e che siano più all'altezza dei tempi quindi non parlo solo di gas ma parlo anche di ripristino potenziale futuro di nucleare così come fanno in tutte le nazioni d'Europa come fanno in Francia, come fanno in Germania, come fanno in Inghilterra, come fanno in Svezia come fanno i paesi più evoluti cioè è un'energia sicura, pulita ovviamente bisogna essere all'avanguardia nella visione nell'identificarsi nel futuro quindi sono tutte scelte importanti che comunque un nuovo governo dovrà fare occorre coraggio, occorre forza, occorre unità occorre quindi un forte consenso Si è rinnovato oggi il protocollo d'intesa volto al monitoraggio dei fondi PNRR tra il Comune di Vallefoglia, la Procura della Repubblica e la Guardia di Finanza tutti i dettagli all'interno del servizio di Edoardo Razzi In questo protocollo sostanzialmente aumentiamo il sistema di prevenzione e contrasto alle condotte lesive degli interessi pubblici in particolare ovviamente miriamo ad aumentare tutto quel patrimonio informativo che ci consente di poter appunto intercettare tutti quei sistemi truffaldini di malversazione, di truffa, di cattivo impiego delle risorse pubbliche derivanti dal piano nazionale di ripresa e resilienza Stiamo parlando di 235 miliardi di euro importanti risorse che l'Unione Europea ha destinato all'Italia all'indomani della pandemia quando alla crisi sanitaria poi si è trasformata in una vera e propria crisi economica e quindi l'arrivo di queste risorse ha preteso ovviamente l'Unione Europea che fosse accompagnato da un sistema di controllo efficace e funzionante siamo già in grado in qualche maniera di individuare e intercettare dei target particolarmente sensibili questo protocollo aumenta ovviamente il patrimonio informativo e fa in modo che quando interviene la Guardia di Finanza intervenga in maniera sempre più selettiva sempre più efficace e sempre appunto a scoprire fenomeni sempre più performanti che vanno ad intaccare ovviamente in maniera negativa il sistema economico. Ovviamente la nostra azione è mirata anche ad analizzare tutto il flusso di soggetti che magari fanno parte di appaltatori, subappaltatori e subfornitori quindi andiamo ad analizzare le varie imprese nel loro complesso verificare ad esempio se ci sono condotte lesive ad esempio nel contesto dei bilanci magari presentati dalle varie società se magari si prestano le varie società a porre in essere fatture per operazioni inesistenti Un messaggio molto forte grazie alla Guardia di Finanza al Procuratore della Repubblica di Pizzaro per non solo i fondi del PNRR che saranno, speriamo, numerosi ma per tutte le procedure degli appalti per massimo di correttezza, di trasparenza di serietà nella pubblica amministrazione e perché no anche nelle opere pubbliche e private che sono milioni e milioni di euro di investimenti in quest'area che è già molto importante, molto ricca e quindi è un messaggio di forte trasparenza e di gestione di buona amministrazione Dopo cinque anni di chiusura dovuti ad una frana riapre strada San Donato di Ginestreto ovvero una via strategica per i collegamenti da e per il quartiere e anche per la zona industriale del territorio una strada che torna dunque nella disponibilità dei residenti dei pendolari dopo due interventi che hanno ottenuto 280 mila euro di finanziamenti dal Ministero dell'Interno Pesaro ospiterà la ventottesima edizione delle gare nazionali di pronto soccorso della Croce Rossa italiana in programma il 16 e il 17 settembre la competizione organizzata con il supporto del Comitato regionale e pesarese della Croce Rossa vedrà i volontari suddivisi in 15 squadre regionali impegnati in diversi scenari di emergenza allestiti ad hoc sfruttando i luoghi più caratteristici della città come teatri di intervento la gara permetterà di confrontare e valutare in un contesto sereno ma scrupoloso la loro preparazione e invece domenica 18 settembre torna la giornata europea della cultura ebraica che invita ad approfondire storia, cultura e tradizioni dell'ebraismo l'evento coinvolge più di 100 località in tutta Italia sotto il tema rinnovamento come accade ormai da diversi anni anche Pesaro aderisce alle manifestazioni e per questa domenica aprirà al pubblico i due luoghi che compongono il percorso cittadino della cultura ebraica la sinagoga di via delle scuole e il cimitero ebraico nel verde del parco San Bartolo e intanto prosegue l'International Police Award Festival che domani venerdì alle 17.30 a Palazzo Mazzolare Mosca presenterà il libro di Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli Crimine infinito alla presenza degli autori di questo romanzo che tratta temi di indrancheta e che sarà seguito dalla proiezione di una puntata di Sirene programma di Discovery Channel curato dagli stessi autori all'evento invece al teatro sperimentale si terrà la proiezione dei film che hanno vinto l'edizione 2021 del Festival Nets di Calcutta e a seguire alle 20.30 la presentazione del trailer della serie TV Daily Crime e infine alle 21 la proiezione del film Notes to a Lover from Jenny Adam and Her Beautiful Family e proprio all'interno dell'International Police Award Festival è stata inserita anche la prima assoluta del docufilm Siamo Qui Siamo Vivi che ripercorre l'incredibile e toccante vicenda della famiglia Sarano una proiezione che è stata applaudita martedì sera al teatro sperimentale di Pesaro anche dalla senatrice a vita Liliana Segre un teatro sperimentale gremito ha applaudito martedì sera la prima mondiale del documentario Siamo Qui Siamo Vivi che racconta la storia di Alfredo Sarano e della sua famiglia scampata alla Shoah tratto dal libro di Roberto Mazzoli prodotto da Armand Julian e diretto da Daniele Ceccarini una prima promossa all'International Police Award Festival che ha visto anche gli applausi della senatrice a vita Liliana Segre autrice tra l'altro della prefazione del libro di Mazzoli un autore che ha recuperato il diario di Sarano che ha permesso di riscrivere una pagina fondamentale della Shoah italiana Sarano era infatti il segretario della comunità israelitica di Milano e fu colui che nel 1943 decise di nascondere le liste dei 14.000 ebrei milanesi salvandoli in larga parte dai campi di sterminio la famiglia Sarano riuscì a nascondersi fino al termine della guerra a Monbaroccio protetta nel convento francescano del Beato Sante e aiutata anche da Eric Eder ufficiale della Wehrmacht che decise di trasgredire agli ordini di Hitler questa storia nasce dalle ricerche che ho effettuato nel 2012 per ritrovare alcune famiglie ebrei che erano sopravvissute alla Shoah nascondendosi nel convento del Beato Sante e queste ricerche sono andate avanti diciamo senza grandi risultati fin quando sono riuscito a ritrovare in Israele la famiglia Sarano che aveva a sua volta tenuto in un cassetto un diario molto prezioso scritto da Alfredo Sarano che era il segretario della comunità ebraica di Milano il quale nel 1943 dopo l'occupazione di Milano aveva salvato le liste di ben 14.000 ebrei molti dei quali si salveranno così dai campi di sterminio Daniele Ceccarini è il regista dei 30 minuti di DocuFilm che dopo l'anteprima di Pesero girerà per i principali festival internazionali tra cui Cannes, Toronto e Amsterdam in questa storia quando ne sono venuto a conoscenza mi ha subito emozionato fortemente mi ha colpito da subito la grande forza che portavano con sé i protagonisti di questa vicenda una storia meravigliosa in cui mi ha colpito subito la forza del messaggio quello che portava con sé queste persone hanno saputo scegliere il giusto in un contesto terribile che era quello della guerra hanno saputo fare la scelta giusta e le vite di a richiedere Alfredo Sarano sono sempre state parallele si sono sfiorate per un attimo e entrambi hanno saputo fare una scelta senza che l'altro fosse a conoscenza di questa scelta e questo ha portato alla salvezza di tantissime persone e quindi credo che sia un messaggio molto attuale anche oggi che possa essere di forte insegnamento questa storia, queste persone e questo documentario io sono qui perché rappresento il convento del Beato Sante dove gran parte del documentario è stato svolto è il luogo dove si sono svolti fatti importanti riguardo alla Shoah è il luogo dove padre Raffaelli, padre sante Raffaelli ha accolto, ha difeso tante persone è il luogo dove veramente è stata vissuta una storia io oggi rivivendo insieme a tanti amici questa storia tramite il documentario per noi frati è stato veramente un onore è un modo per anche far conoscere la grandezza e la bellezza del santuario del Beato Sante il valore di questo documentario per noi è immenso perché racchiude la storia di oltre 50 anni, 60 anni, 70 anni di cultura monbaroccese quello che si salvò, quelli che si salvarono all'interno di quelle grotte hanno fatto seguito a quello che fece la famiglia Perazzini la famiglia Ciaffoni, famiglie del territorio che oggi ritroviamo ora come allora nell'ottica del sociale, del volersi bene, del confronto, del salvare le vite altrui ci ritroviamo a promuovere un territorio grazie a un uomo giusto, un giusto premiato fra i giusti e che questo sia di esempio anche per i nostri ragazzi delle scuole che oggi ritrovano nel premio, luci nel buio un valore immenso nel ricordo di quello che è una persona che ha fatto del bene salvando loro ma salvando anche se stesso e salvando oggi quello che è la memoria per questi ragazzi che alle scuole ogni anno si ritrovano per ricordare il valore di questa immensa persona E concludiamo con lo sport successo ieri nell'infrasettimanale per la Vispesero a Olbia 1-0 per i Biancorossi grazie al gol arrivato allo scadere di Auccelli che al novantesimo è stato il più lesto di tutti a ribadire in rete dopo la corta respinta delle portiere avversario Ottima partenza per gli uomini di Sassarini che dopo tre giornate hanno conquistato sette punti con zero gol subiti prossimo impegno per la Vis domenica 18 settembre sul campo di un ancora mai vittorioso Pontedera Ancora sport c'è stato un trionfo di caratura mondiale per la 18enne di Chiaravalle Sofia Raffaelli reduce dalla doppia vittoria negli attrezzi cerchio e palla alla 39esima edizione dei campionati mondiali di ginnastica ritmica in scena a Sofia dal 14 al 18 settembre un'impresa compiuta nel giro di mezz'ora diventando la prima ginnasta italiana della ritmica a laurearsi campionessa del mondo a livello assoluto Grande attesa ora per venerdì con le Farfalle dove Raffaelli insieme a Milena Baldassarri punteranno ad ottenere il podio qualificandosi direttamente alle Olimpiadi di Parigi 2024 E si conclude qui questa nostra edizione della telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordo come sempre la nostra prima serata che in questo giovedì alle 21.20 sarà dedicata a un documentario realizzato dal Cine Club Cesare Pandolfi l'artista Franco Fiorucci si racconta e poi come sempre vi do appuntamento domattina a Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali in diretta a partire dalle 7.20 Ed è davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi